Così un altro imprenditore stamattina si è ucciso impiccandosi nella sua fabbrica perché non poteva più pagare gli stipendi ai suoi operai. Ecco, ma faccio notare questa notizia estremamente triste quanto l'ennesima, come riferisce anche l'articolo, gli imprenditori che dal 2008 si sono suicidati perché non potevano più pagare tasse o stipendi per via della crisi economica, ma questo fatto evidenzia la cosa più importante, che non è solo l'imprenditore che viene a mancare uccidendosi. Ma anche le decine, centinaia, migliaia di famiglie degli operai delle varie ditte fallite, spesso per colpa dello Stato che non ha pagato i suoi debiti alle stesse, che rimangono senza lavoro, senza un'entrata e per cui ci sono decine, centinaia di migliaia di persone che soffrono lo stress, l'angoscia di non sapere come arrivare a fine mese. Ecco, in una parola sola, lo Stato trova i soldi per aiutare, come si dice, centinaia di migliaia di stranieri e lascia morire gli imprenditori che sono la spina dorsale dell'Italia a livello economico. È come dire che l'Italia sta morendo poco alla volta, nell'indifferenza di chi la governa. Un altro italiano si è ucciso, imprenditore o meno che sia, ma questo conta poco. L'importante è salvare solo gli immigrati.